Sono Marco Ottaviani, ho 19 anni e vengo da Visso. Io sono Isabeletta Ottaviani, ho 17 anni e vengo da Visso. Il 24 agosto, con quella grande scossa sismica, comunque sia abbiamo avuto un po' paura perché ci ha preso nella notte, comunque sia io non me ne ero neanche accorta, sentivo solo mia mamma che urlava, mi sono vestita e sono scesa. Non ho fatto tempo a vestirmi, quindi ho preso un po' di panni e sono scesa di corsa. Siamo usciti e c'erano tutti i vicini di casa comunque sia di fuori e quella notte è stata un incubo. Quando siamo rientrati dentro casa per prendere alcune cose, per metterci in macchina, siamo messi in macchina e il giorno dopo siamo andati a vedere com'era la situazione a casa. Di sotto alla fine non c'era niente, ma siamo saliti di sopra e c'era qualche crepa, infatti ci hanno dato la casa inagibile al piano superiore. papà e mamma comunque sia sempre avendo paura hanno comprato una roulotte, però il primo mese il comune di Vista aveva messo delle tende qua sempre al campo sportivo, dove io e alcuni ragazzi, anche mio fratello, ci siamo messi qua. Dopo è cominciata la scuola e siamo tornati nella roulotte e infatti quando ha fatto il terremoto del 26 ottobre noi giocavamo la roulotte. Io il 26 ottobre pensavo di morire perché comunque si è preso in piazza, la porta del ristorante, lo stavo, che è la pizzeria vicino al comune, non si apriva la porta, poi fuori pioveva, era bagnato, è andata via la luce, quindi era un problema. Siamo riusciti a uscire, quando siamo usciti siamo andati un po' di qua e un po' di là, nessuno ci ha capito niente, eravamo sei ragazzi e nessuno ci ha capito niente. Alla fine mi sono trovati con un ragazzo, abbiamo passato l'arco della piazza, siamo andati davanti alla pompa della benzina che è caduta giù e un ragazzo mi ha portato a casa perché comunque si erano bloccati e a piedi non facevano passare, mi ha riportato a casa, vabbè è stato brutto perché chiamavo mamma, mamma non rispondeva, chiamavo papà, papà non rispondeva, mio fratello non rispondeva perché lì ne erano preoccupate e quindi non sapevo che fa. Alla fine mi hanno portato su e c'era mamma che piangeva, vabbè erano un po' tutti preoccupati perché comunque sia è stato troppo forte. Poi il 30 perché noi non siamo partiti, perché comunque sia alcune persone, la gente anziana, i bambini piccoli sono partiti, solo che comunque sia noi avendo la roulotte, avendo tutto abbiamo detto aspettiamo, e vediamo che succede. E il 30 invece quando ha fatto la scossa, noi stavamo in roulotte vicino a casa, che adesso è il posto dove comunque sia stanno facendo le casette, ha fatto il terremoto e sentivamo gli urli della gente che stava qui al campo sportivo e noi stavamo là, papà comunque sia stava soldati agli animali, vabbè papà è sceso, è venuto da noi, siamo venuti qua al campo sportivo perché c'era altra gente, poi è venuto un elicottero dei vigili al fuoco e ci ha detto dovete andare via. Dopo lì è stata la botta finale, comunque sia ci ha fatto rimanere male perché hanno detto nessuno può rimanere qui, se non partite arriva la polizia e vi porta via. Alla fine mamma ha preso alcune cose, alcune cose ce ne avevamo i roulotte, comunque sia dal 24 ottobre, quindi mamma ha preso delle cose, abbiamo fatto delle varigie e siamo partiti per il mare. Certo, arrivati giù erano come pesci fuori dall'acqua, perché comunque stiamo vivendo in montagna e il mare poi d'inverno fa un altro effetto. Siamo stati giù 15 giorni perché comunque sia mamma riprendeva il lavoro qua, papà lavorava qua, mio fratello comunque si doveva finire la scuola, ma dopo il pomeriggio comunque si andava dagli animali, quindi noi avevamo tutto qua e non potevamo fare avanti e dietro dal mare. Arrivati qua comunque sia io non conoscevo nessuno, vabbè, conoscevo alcune famiglie sì, però da una parte il terremoto ci ha rovinato, da una parte il terremoto è come si è ricostruito una nuova società, io comunque sia queste persone non ho bene di più, voglio tutti bene allo stesso modo e io lo dico, quando comunque si arriveranno le casette mi dispiacerà tanto perché comunque sia loro erano come una famiglia per me. Cioè ha detto diciamo quasi tutto lei, allora diciamo che quando erano montati al mare diciamo è come una nuova situazione, diciamo vediamo come uno la può affrontare, però arrivati al mare innanzitutto la situazione era un po' monotona perché lì non sapevi che fare, eri da solo perché comunque conoscevi poca gente. E poi uno la fa, cioè io e i miei genitori e lei l'abbiamo fatto perché comunque qui era un terremoto ogni due secondi, anche piccoli ma comunque la testa ne risentiva. Quindi diciamo tanto mio padre non poteva lavorare perché la ditta si era fermata perché c'era l'emergenza, ma la svila, mamma lavora la svila, una fabbrica che sta qui a visso e fa pizze surgerate, aveva interrotto l'attività perché c'erano stati dei danni anche. La scuola era chiusa, giù, andiamo giù e poi magari io e i miei padri tornavamo su soltanto per il bestiame perché comunque qui che stavamo a fare, non c'era niente. E allora ci abbiamo provato ma la situazione come ho detto era un po' strana. Però l'abbiamo fatto per riposarci, però la prima settimana è passata diciamo abbastanza velocemente ma poi la situazione incominciava a diventare pesante e quindi poi ricominciava la scuola, mamma riprendeva il lavoro, papà lo stesso, quindi a noi rimaneva anche più comodo partita qui per da scuola invece che partita al mare e quindi siamo tornati su oltre che perché c'erano il bestiame che quindi andava accudito eccetera eccetera. E niente, siamo venuti qui, siamo stati per un periodo di tempo la zona vicino alla Croce Rossa, diciamo avevamo messa tutte le roulotte lì e c'era il datore della voce di mio padre che ci passava la corrente. Dopo siamo venuti a conoscenza che comunque potevamo venire qui che è la zona del campo sportivo e diciamo che è stata una cosa abbastanza favorevole perché la corrente comunque qui nel campo sportivo c'era, le docce ci sono, basta che uno compra il gasolio perché la pompa è a gasolio e quindi insomma uno cerca di averci una vita quanto meno normale perché appunto abbiamo anche adibito una stanza a cucina e abbiamo chi aveva dei tavoli, chi aveva delle sedie, insomma via. Ci siamo arrangiati e ognuno ci mette del suo e comunque cerchi di avere una vita diciamo quanto meno normale, è un po' insolito perché siamo una trentina di persone quindi diciamo uno in un contesto familiare non sei così tante persone però diciamo che ci siamo dovuti adattare, ognuno ci mette del suo, comunque fai anche nuove amicizie, diciamo che è una situazione un po' strana però è favorevole per tutti ecco. Inizialmente tenevo le mie bestie, non avendo una stalla di mia proprietà, tenevo le bestie da un mio amico il quale aveva una stalla abbastanza grande e avendo pochi capi diciamo aveva spazio per farmi appoggiare da lui le bestie durante il periodo invernale. Io portavo le bestie da lui, è una frazione che sta qui vicino a Visso, comunque sono 5-6 km non è lontanissimo e le portavo su da lui, poi dopo la sera andavo in quella stalla e diciamo le pulivo eccetera eccetera, comunque lui mi aiutava nel senso che mi dava un posto dove appoggiarle l'inverno. Io so sincero con lui non ho mai stipulato un contratto d'affitto perché essendo amici cioè non ce n'era bisogno, lui mi diceva tu le appoggi qui poi magari io gli dava un piccolo contributo per la corrente eccetera eccetera per l'acqua e quindi per un po' di anni è passata così. Dopo col terremoto invece appunto che c'è stato la scossa, la prima scossa aveva in parte danneggiato la stalla ma la seconda scossa diciamo l'aveva demolita all'80%, poi magari dopo quella di domenica proprio sono rimaste in piedi quattro colonne però io ho fatto domanda alla regione diciamo per ottenere dei moduli per mettere comunque il bestiale perché qui durante l'inverno le temperature scendono parecchio, la neve ne fa parecchia genericamente e quindi uno magari c'è dici dove le metto le bestie e quindi appunto ho fatto la richiesta alla regione ma la regione mi ha detto che a me non aspettavano appunto questi moduli perché io non avevo diciamo un contratto d'affitto che testimoniava che portavo le bestie dentro la stalla di quest'amico e quindi appunto io mi sono dovuto arrangiare da solo e ho fatto quei moduli diciamo fatti cioè è una cosa provvisoria fatta diciamo con delle stanche di ferro chiodato addosso dei bandoni e poi il telo che diciamo gli mantiene dentro il calore. Io adesso non so se sarà possibile diciamo continuare per così tanto tempo perché cioè da qui al futuro comunque se io anche volessi aumentare il mio bestiamme non potrei perché non avendoci una stalla uno cioè non puoi andare avanti facendogli delle moduletti provvisori capito quindi io se volessi diciamo mette su una piccola azienda io già piccola azienda già ce l'ho però magari se volessi ingrandirla non potrei perché appunto non avendoci una stalla non posso io poi ho chiesto anche qui al comune il comune c'è diciamo c'è una stalla di proprietà che è proprio qui vicino e diciamo io ho chiesto a loro se era possibile acquistarla ma loro non c'è la cedono però con delle particolari condizioni ti spiego allora io la stalla ha dei partiti problemi diciamo ci sarebbe da spendere un po' dei soldi che ne so ad esempio i muri hanno qualche filatura cioè però non è la struttura diciamo è solida è solo che i tramezzi sono un po' lesionati poi il tetto è damianto quindi diciamo ci vogliono dei soldi per ripararla io ho proposto diciamo al comune se magari io i lavori le faccio a spese mie e poi dopo loro diciamo nel vendermela mi facevano diciamo un prezzo del favore invece no loro vogliono che io aggiusti la stalla poi loro me la vendono per buona quindi uno un attimo ci pensa è come se quei soldi li butti via perché alla fine la stalla se la compri a prezzo pieno la compri una stalla buona non è che compri una stalla che poi c'è di rimettere mani quindi scartata da quell'ipotesi io se volessi appunto mettere su una bella azienda e cosa che mi piacerebbe anche dovrei spostare la residenza nel paese d'origine di mio padre che è Precilla in Umbria perché loro la diciamo valorizzano più a mio avviso valorizzano più l'agricoltura l'allevamento eccetera quindi io sarei costretto a spostarmi anche perché l'ave avrei già trovato la terra in affitto e i capannoni dove sistemare il bestiame quindi questa è una decisione che a breve dovrò prendere e forse sono propenso a spostare il bestiame nella zona Umbra appunto là dove abita mio padre noi stiamo aspettando le casette è passato un anno pochi giorni fa comunque e ci siamo stufati di vivere così io l'ho detto prima certo lo so quando andrò via da qui le persone che adesso stanno con me mi mancheranno a munire va bene le vedo tutti i giorni ok però non sarà come prima magari mi alzo e mi dicono buongiorno poi a pranzo tutti insieme comunque 27 persone sono tante stare insieme a 27 persone è bellissimo sì però non è la quotidianità io lo dico mi sono stufata di dire così però da un certo lato da me mancheranno sì però si devono sbrigare con le casette perché la data qui del campo sportivo doveva essere due giorni fa e ancora da uno dalle prime venti da noi di là l'altro giorno lavorava solo un operaio so pochi so noi siamo stufati le altre aree stanno tutte ancora come stanno inizialmente magari quelle più su verso villa stanno avanti però la prima di fronte al parco del niente di fronte della piscina salumi non c'è neanche una casetta montata gli operai so pochi si devono svegliare ci vuole che comunque sia cominciano a mettere più operai e si devono dare la mossa perché comunque sia noi vogliamo una casa la piscina salumi non c'è nulla